Ciao. Ciao. Ah, dovremmo stabilire una posizione per le tue incisioni, tale che mi permetta di avere una buona visuale per operare l'ernia. Sì, entrerò da qui e poi da qui. Grande, bene, certo. Mi sembra buono. Bene. Allora, stai qui o in hotel? Che succede? Ah, sì, qui, finché non troverò un posto. Sì, non ti ho chiamata, April, perché... Sto tornando vergine. È un'impresa tornare vergini, si deve pregare molto. Io ho avuto tempo per farlo a Moline, fissando il poster degli NSYNC. Ho pensato un po' a Gesù, come Justin Timberlake, però il mio postore dice che è uguale, sai, se parlo con Gesù e lascio aperte le comunicazioni con lui. È la mia seconda chance, Jackson. E non pensavo di averla, ma quando il dottor Hunt è apparso a Moline e mi ha offerto di tornare, per me è stato un segno che posso... posso riavvicinarmi a Dio. Posso accettare il suo perdono e avere una seconda chance. Ricominciare, senza tutti gli errori, voltare pagina, potrò... tornare vergine. Sì. Che è il tuo modo per dire che tu vuoi far finta che tra te e me non sia successo niente. No, non è questo. Non è così semplice.